Dipende da come si vive il cane, per noi è un componente della famiglia per cui al suo compleanno ci sta anche la torta. Ha aperto da un mese in via 20 settembre Sweet Dog, una pasticceria per cani. Il negozio in realtà aveva aperto tre mesi fa in via Forte una piccola via di Crema, ma da quando si è trasferito nella storica via del centro le vendite, fa sapere il titolare, sono quintuplicate. È solo uno degli esempi di aria di fermento e novità che si respira nella città di Crema, che vede diversi spazi commerciali, prima vuoti, rivitalizzati e riempiti. In via Mazzini ad esempio sono in arrivo due negozi che appartengono alla catena italiana di grandi magazzini Upim, gestita da OVS. All'inizio della via aprirà prossimamente Blue Kids, negozio di abbigliamento per bambini, mentre già da domani, dove una volta c'era Camaiò, potrebbe spalancare le porte Croft, negozio di componenti arredo per la casa. Ma la vivacità commerciale cittadina è data anche dagli spostamenti che in quest'ultimo periodo hanno coinvolto diverse attività. Natura Si, negozio di prodotti biologici, si è spostato da via 4 Novembre in via Gramsci, trasloco anche per la gelateria Bandirali che da via 20 Settembre si è spostata in piazza Garibaldi, dove può godere di un ampio plateatico. Un altro Bandirali, il fratello Luca, già titolare dell'enoteca di via Matteotti, ha finalmente aperto all'interno della libreria Brioschi per dare finalmente vita a quello scambio innovativo tra cultura del cibo e letteraria. Il Giardino del Re, negozio di fiori, si trasferirà da via Cavour in via 20 Settembre.